Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego dove trovare questo talisman del gatto a coda lunga dirigetevi qui alla scuola dei maghi dove stanno gli stregoni che rompono sempre i coglioni dirigetevi da questa parte dove sta questa ruota dove c'è anche le piattaforme dove vi porta su e giù e dobbiamo arrivare fino in fondo e non so lì c'è un grande laghetto ci buttiamo dentro e lì proprio lì c'è il talismano del gatto a coda lunga e cosa consiste questo talismano? cosa fa? se tu stai da se tu ti butti da un'altezza di 20 metri non subisci danni eh già esatto questo fa però è un bel talismano quindi mettetelo alla collezione che vi potrebbe anche servire tuttavia non può impedire di cadere verso la morte beh se tu ti butti in un abisso oppure da un'altezza di 100 metri muori muori eh sicuramente muori eccolo qua talismano del gatto della coda lunga se volete tornare su o usate il punto di grazia oppure fatevi un bel giretto qua sopra per tornare indietro e prendere la piattaforma che vi porterà su quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo e niente se volete altri tutorial fatemelo sapere iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina se questo video vi è stato utilissimo lasciate like ok? quindi questo è un altro video da aggiungere alla playlist e siamo arrivati a 67 video su Elden Ring spero di arrivare a 100 quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao